Grata all'Uni per questo inaspettato riconoscimento, il premio Paolo Scolari 2021. La file si è avvicinata al mondo della normazione tecnica e volontaria quando ha sentito l'esigenza di predisporre un modello di riferimento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Poi nel febbraio-marzo 2020 all'inizio dell'evento pandemico ha sentito l'esigenza anche per la didattica a distanza e mista di avviare un procedimento per un riconoscimento come PDR di questa attività. Perché sentiamo la valenza delle prassi di riferimento? Innanzitutto è una norma volontaria, a differenza di quando accade di regole per le norme crocenti e viene approvata, questo è fondamentale, con un effettivo coinvolgimento di tutte le parti sociali interessate a regolamentare quello fenomeno. D'altra parte poi il contenuto della Roma è flessibile, non sono rigide regole burocratiche. Pertanto gli organismi, le scuole possono poi applicare nelle loro realtà queste norme. E poi la possibilità anche per chi vuole di ottenere certificazioni. Si pensa solo che molto probabilmente entro quest'anno saranno sei istituzioni molto importanti ad avere la certificazione da per la PDR sul contrasto al bullismo. La FIDE vuole continuare su questo percorso perché sente che gli attori del mondo scolastico vogliono sempre più trovare una formazione, una normazione tecnica volontaria per completare il quadro normativo. Tutto al servizio della scuola perché al centro della scuola c'è il benessere dei nostri ragazzi.